hai sentito dire che scegliere una società e in particolare una srl unipersonale potrebbe darti dei grandissimi vantaggi di natura fiscale con questo video voglio darti una bussola per decidere se aprire la tua attività con una partita iva o con una società di base non è la fiscalità che deve portarti a scegliere se operare con una partita iva o con una società ma è la natura insita della tua attività o meglio il rischio insito all'interno della tua attività se la tua attività è un'attività il cui rischio imprenditoriale è basso perché non hai una grande esposizione nei confronti dei fornitori e perché in ogni caso i rischi che vai a correre imprenditorialmente non sono particolarmente elevati il suggerimento è quello di guardare alla partita iva se per contro la tua attività è un'attività il cui rischio insito imprenditoriale è piuttosto alto conviene rivolgersi all'istituto societario e quindi conviene pensare di aprire la propria attività tramite una srl unipersonale questo perché qualora le cose non dovessero andare bene nell'ambito della tua attività e purtroppo quando si fa business questo può accadere se sei titolare di un'attività aperta tramite partita iva individuale i debiti di questa attività rimarranno a te appresi per tutta la vita nel caso invece di società responsabilità limitata qualora le cose non dovessero andare bene i debiti resteranno chiusi all'interno del veicolo societario quindi delle srl e tu in qualità di sosso risponderai limitatamente al capitale iniziale che hai utilizzato per aprire la società nei prossimi video parleremo della differenza tra società di persone e società di capitali se ti è piaciuto questo video iscriviti al nostro canale youtube e segui tutti gli aggiornamenti sul nostro sito